Hola io sono Marcus Corona e signori e signori bentornati su Terraria per la 1.7 Uh guardate ha cresciuto un cactus in diretta, grande! Ho messo la visuale a 7.20 perché penso che si veda meglio sinceramente L'umino era un po' troppo piccino, 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 piccino e anche un po' troppo picciò Allora oggi voglio fare, voglio far diventare questa struttura una casa vera Una casa vera però lo biva di rompere le ceste perché sono un gran pigrone Quindi farò un pezzo così Oh questo piccone, no aspetta devo per forza rompere ora che ci penso Saccheggia tutto, perfetto, vuota Grange, grange Allora andiamo a prendere il legnone e facciamo così E tra l'altro adesso è fighissimo perché prima ci stavano dei Cioè ci stanno ancora dei requisiti per darci una casa oppure no Però adesso ci sta l'archivement e quindi ci dice se è valida o meno Altrimenti prima non ci lo diceva nessuno Allora facciamo praticamente una stanza Eccola qua E parapim, perfetto Poi ogni volta verrà implementata con altre stanze e così via Io direi che le cose per craftare le possiamo lasciare fuori insieme a tutte le nostre cestoline Vi facciamo deposita tutto E in questa cesta io sono solerte In questa cesta è una cesta qualsiasi Sono solerte per metterci il coso, il denaro Però in questo caso non mettiamocelo Perché potrebbe esserci utile Perché se non sbaglio il mercante che è il primo NPC viene quando hai una casa Allora voglio fare altre due Intanto la voce se ne va Voglio fare altre due porte Poi voglio fare, voglio fare un oggetto di estetico Eccolo qui E una sedia per i nostri stanche, le nostre stanche membra O membri Non lo so Ci si può sedere se non sbaglio? No, non ci si può sedere È una cavolata quella che avete detto Andiamo a mettere qui E... Ah, e che cacchio, giusto Ragazzi, mi serve un martello Altrimenti non posso prendere il muro Tasto destro, guarda No, serve il martello Allora, martello, 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 martello Eh sì, ma se non ho gli ingredients La vedo molto, molto, molto difficile Accumula Prendi tutto Molto good Andiamo a vedere se posso farlo qui Oh, un martello, perfetto Dieci di Tin Li mortacci tu a quanto costi Fio mio se stai caro Allora, il martello Non funziona Ragazzi, avevo promesso di non fare tagli Ma questa cosa mi stava andando Pappa al cervello E ho scoperto che praticamente Il muro lo rompe Ma soltanto da un intercapedine Cioè, soltanto da un lato Quindi io devo fare Così, 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 così E poi posso sfondare il muro Qua Quindi queste pareti qui Che praticamente stanno a simboleggiare il 3D Che manca in terraria L'hanno cambiate dalla versione precedente È interessante, è interessante Un po' stronza come cosa Però è interessante Non so se notate Che è un po' un ditaccio In the chach Dover fare tutto così Però Va bene Quindi, vedi, quindi Dovremmo arrivare a breve A possedere una casa finalmente Tattattattatattata Fortunatamente il martello Non rompe nessun altro oggetto Tranne quelli che ci interessano Quindi dovrebbe Passare indenne Per le porte Per le cose queste cose che c'è qua, perfetto col lumino continua a essere un po' strange ok ci siamo quasi levet, levet, levet eh no, però qui sotto non mi ci fanno oh sì, sì, perfetto, perfetto no, conviene togliere il tavolo eh sì prima fare questo procedimento e poi fare tutto il resto perfetto, allora adesso con il muro di legno rivestiamo la nostra piccola stanzina che vabbè adesso è la nostra casa le mura sembrano sempre che ce ne fai un fracco e poi ti accorgi che coprire tutta un edificio è davvero ostico, però ce l'abbiamo fatta dovremmo avercela fatta vediamo sta porta, la luce c'è rimettiamo il tavolino rimettiamo le nostre amiche sedie, dove sono i fili delle sedie regala la sedia, eccola dovremmo esserci andiamo a vedere se mi da l'archivement build house sweet table enough for your first npc such as the guide to move into forse non me la da perché vuole un npc vuole che ci sia un npc non è una casa eh? non è bellissima questa casa effettivamente fa schifo il cazzo però magari ci possiamo mettere dei cosi degli oggetti di bellezza tipo non lo so una giara una pozione che cacchio è sta roba bonesy grenade 65 di danno velocità molto basso spistone molto basso che figata interessante però qui non mi fa vedere una cosa forse perché mi serviva la fornace dove la metto la fornace? la metto qua sopra che brutta lì sopra no 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 la metto di qua eh? vieni qua fornace dei miei stivali vediamo che mi fa fare la fornace ecco qui mi fa cuoquere l'argilla per creare un vaso un vaso rosa ora vuoi dire da col vaso rosa che ce fai Marcus? niente lo metto lì e così è più bella casa dove? dove? ah bene ho appena che cazzo è sto pulsante? quick stack to the nearby chest no 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 è è bellissimo hanno messo lo smistamento hanno messo lo smistamento regà è fantastico e queste che cosa sono? semi di acquafoglia li farò li farò c'è l'acquafoglia qui molto bene e le mie torce sono totalmente sparite ora non vorrei che shift click me le mandi dentro al cesso però va bene lo stesso intanto ci stanno questi che battono a tempo di musica che rompono proprio il cacchio mo casetta è illuminata su 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 da bravi senti eh apri di sedano ma quanti siete? ma li mortacci? ma morite? 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 ok uuh quanto cacchio dura stanotte? guarda quanti prendiamo la la scimitarra che non è la scimitarra ma è una picca permesso vediamo se si apre ehi ehi e io salgo eh ah mo si a stronzi madonna ah è giorno mamma mia vi romper quello vi romper quello dove andate pezzi di merda morite morite schifosi a parte che mi sto a suicidare perché gli vado addosso però va bene morite dammi i sordi quello si è dato alla velocità incredibile comunque sta alveggiando allora per mia esperienza gli npc non arrivano fino a quando anche se c'hai una casa valida fino a quando fatemi vedere se qui c'è qualche problema col muro non lo so sembra sembra di no sembra potrebbe andare bene fino a quando non siamo abbastanza lontani però visto che io inizio a avere dei seri dubbi che quella casa vada bene aspettate arrivano gli slime ciao slime come stai dovrei fare qualche circuitino di redstone ah non si possono fare adesso è vero è vero è vero questa cosina qui che mi impediva di chiudere la porta qual è il problema mia cara porta beh allora legno 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 qua chiudiamo e ci diamo un pochino per vedere se i nostri amici tornano quindi facciamo deposita tutto io lascerei questa bella moneta d'oro me ne prenderei una cinquantina di quest'altra è giusto per vedere se arriva il mercante che il mercante ci dovrebbe vendere anche la cosa un paio di cosette importanti tipo la pig qualche cosa che ci serve per portare quella jarra lassù mi stuzzica tantissimissimo però vediamo un po' se sono ricresciuti i nostri cactus no quello già c'era e l'avevo lasciato pochini pochini davvero pochini però vabbè fagliate che se ne frega vai cactusini ricrescete ricrescete lesti non ci sono mostri strano vabbè a questo punto io l'armatura me la completo pensavo che ci fosse un insetto da catturare in terraria uh è arrivato Walter e ci ha dato l'obiettivo della casa grande Walter come vai in terraria diceva invece no c'era una specie di moscino attaccato allo schermo io cactus 44 quanti ce ne abbiamo 84 beh direi che gambe e pepette ce le possiamo avere non mi ricordo ci stanno le pepette qui no è tutto un blocco unico andiamo a vedere quello è uno scorpione che sembra se non sbaglio quella è una tomba ah è vero sono morto qui povero è morto Marcus Cron qui sopra addio un piragna vediamo quanto resistiamo porca paletta un pipì un pipì regà un pipì un pipì io ho fatto un critico mori pipì guarda quanto è forte il coso della giungla regà sono fortissimi sono fortissimissimi via una cesta no deve essere mia deve essere mia ah io se mi toccava ammazza uh perché ci arriva pure il condor io vi ho fatto domare al condor eh qualcuno lo spiega vediamo staccheggia tutto ho trovato un libro ho trovato un libro ho trovato un libro ho trovato un libro levati condor di merda mangia qualcosa aiuto 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 gli slime corrono sulla sabbia sull'acqua mori mori ok ok vediamo un po' se posso prendere questa perfetto qualche torcina se c'è un'altra cesta bello che ho preso che ho preso che ho preso vediamo guide to plant fiber cordage che diavolo mi sta rappresentando tutto ciò non lo so però è figo però è figo cazzo cazzo che male cazzo che male raga cazzo 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 via 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 i pesciolini no pesciolini io sono buono sono stato un bravo bambino eh ma c'è una cesta lì sotto non mi ammazzate fermo 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 saccheggia ho presa l'ho presa ho preso tutto ho preso tutto allora come al solito faccio le cose al buio tra l'altro ho preso un sacco dei sordini quindi cerchiamo di tornare a casa Sani guarda i nooo raga guardate i piragna oh bello rimangono lì incastrati fantastico eh no adesso nuotano ah ah sono tutti morti dai dai quanti soldini ho fatto due monete d'oro via fuga fugone incredibile muori 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 piragna di merda no questo no rega questo no questo no questo non è giusto levati mannaggia la pupazza non ce la faccio non ce la faccio non ce la faccio non ce la faccio via liscio incredibile Marco Scrolla prosegue la sua corsa ma vi levate maledetti schifosi lezzi che non siete altro allora io faccio una cosina protettiva non dovrebbero riuscire a salire fino a qui e bombate voi vede che ho questo allora lui arriva fino a qui eccolo 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 mamma mia ti rompo il quello vieni qui vieni qui non mi avvicino non oso avvicinarmi di più rega ho paura paura cazzo 17 di vita porca paletta uh è morto è morto è morto cazzo lì c'è uno slime porco uh che figata che ho preso l'uccino ho preso l'uccino rega ho preso l'uccino no quello mi tirava una calchetta e sono morto devo usare il legno ma posso usare un'altra cosa invece del legno tipo il fango non ce n'ho bene no merda vieni qua dai salta salta ancora salta di uno bravo vai vaffanculo uh liscio 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 da parte sua non mi prendi non mi prendi non mi prendi ragazzi dobbiamo tornare a casa via ok prendiamo pure sto cactus e ce l'abbiamo fatta ce l'abbiamo fatta ce l'abbiamo fatta è stato buonissimo trovare quelle tre ceste nella giungla magari non c'è niente di utile però sicuramente c'è qualcosa di danaroso oh questo è cresciuto è cresciuto di uno ah corvo l'oxpel io lo chiamo la malasorte aiaiaiaia ma ve ne andate 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 no no eh non adesso non adesso c'ho un sacco di sordi le va a vedere al cazzo non mi inseguirai sotto l'albero pezzo di berda ah rega ce l'abbiamo fatta forse la puntata è durata pure un po' troppo però eccolo il mercante grande grandissimo tu adesso da qui entra dentro casa subito entra dentro casa guarda i miei articoli che cacchio è questa hello to collection collection of air from glass spinture molto debole fa 9 interessante uh il casco d'aminatore buono le frecce la bagnets la prendiamo subito il coso il salvadagnietto che adesso costa un oro solo l'hanno l'hanno scemato che figata signori allora invece noi abbiamo l'uncino fantastico la pozione d'aminatore la pozione di cura tin e lead non in grandi quantità ma buono abbiamo il coltello da lancio il bastone luminoso the build increase placement speed and rage 15 minuti buono laghetto più 2 velocità corpo a corpo velocità aumentata del 5% ragazzi mettiamocelo subito qui poi la tomba va bene 3 chest il gel il recolpo uh potremmo usare questa e delle bottiglie fantastico ragazzi fantastico ora se ciccio mi volesse seguire vedrà che morirà ciccio sei appena arrivato e già mori mortacci tua bravo entra entra bravissimo grande come la va come la va io adesso ti chiudo qua dentro e noi ci vediamo alla prossima puntata di Terraria bella regà ciao